Marrakesh pizzicato in barca con la nuova fidanzata Asia Pesenti, dimenticata Elodie. V-blog dedicato a Marrakesh e Asia Pesenti che sembrano essere la nuova coppia dell'estate. Lui era reduce dalla lunga storia con Elodie. Lui 44 anni. Lei 27 anni sono stati sorpresi in intimità a Pantelleria S una barca dove hanno passato i giorni scorsi. Fonte Photo Key. Elodie si vede con il pilota Iannone. Ma non solo infatti proprio in queste ore Elodie è stata avvistata felice con un altro uomo e per la precisione con il pilota ex MotoGP Andrea Iannone. Aveva dichiarato Elodie di Marra. È la persona che amerò di più in tutta la mia vita. Un prossimo fidanzato? Non sarà mai all'altezza. Fonte Photo Key. Fonte Photo Key. Fonte Photo Key.